Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale Kirio1984. Oggi vi farò un unboxing con mini recensione di un DVD che mi è stato omaggiato dalla mia fumetteria. La fumetteria si chiama Fermata Fumetto ed è a Pistoia, in viale 20 settembre numero 10. La trovate anche su Facebook mettendo Fermata Fumetto Pistoia e credo che sia proprio la fumetteria più fornita della zona. Infatti al suo interno trovate non solo fumetti, non solo DVD, ma anche action figure, varie cards di tutti i tipi, quindi Yu-Gi-Oh! Pokémon e chi più ne ha più ne metta, action figure e quant'altro. Insomma davvero tutto quello che volete riguardante il mondo nerd e otaku. E chiaramente se passate dalla fumetteria ditegli che vi manda Kirio1984 così magari se fate un acquisto bello sostanzioso vi ci scapperà anche uno sconticino. Il DVD che mi ha dato Andrea, appunto il proprietario della fumetteria, è City Hunter Private Eyes, quello che è l'ultimo film di animazione dedicato a City Hunter, uscito in Blu-ray disc per Dinit lo scorso anno, quindi il 2019. Vi leggo la trama e poi andiamo ad aprire questo box. Ryo Saeba è una guardia del corpo con sede nel quartiere Shinjuku di Tokyo. Oltre ad essere piuttosto in gamba ed avere una mira infallibile ha un'ossessione esagerata per il sesso opposto. Lui e la sua partner Kaori spesso combattono il crimine e svolgono anche altri compiti per chi richiede i loro servizi. La loro ultima cliente è una modella, Ai Shindo, che è stata attaccata da persone misteriose e che inconsapevolmente è in possesso di una strana chiave fondamentale per una cospirazione che coinvolge l'intera città. Riuscirà Rio a proteggere Ai e a salvare la città? E andiamo subito quindi a togliere la pellicola protettiva esterna e a vedere appunto cosa contiene il box oltre al Blu-ray con il film. Il Blu-ray è contenuto in una confezione di cartoncino appunto esterna. Dentro c'è il Blu-ray con un'immagine di copertina diversa rispetto a quella del cartoncino e vediamo cosa troviamo all'interno della custodia. Innanzitutto c'è una cartolina molto molto carina rappresentante Ryo Saeba e Kaori Makimura, spero che si veda bene anche con la luce, ed un libretto, una cosa abbastanza fondamentale secondo me per incentivare la vendita del materiale originale, quindi contro la pirateria, perché spesso si trovano delle confezioni abbastanza scarne come si suol dire, senza nessun contenuto extra e senza niente che possa effettivamente valere l'acquisto, mentre qui c'è un booklet di 32 pagine. E come extra poi all'interno troviamo il trailer e gli spot originali, le interviste ai doppiatori e il video musicale Get Wild cantato da Stefano Bersola. Tutto questo per quanto riguarda questa edizione che è la First Press Edition. Questo nuovo film è legato al brand di City Hunter, famosissimo manga creato da Tsukasa Hojo e serie di punta negli anni 80 della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, inizia ad essere progettato in Giappone già a partire dal 2017. La sceneggiatura però subisce tantissime modifiche, dovute anche alla supervisione dell'autore originale del manga, e la produzione della pellicola viene annunciata da Aniplex nel marzo 2018. La versione finale dell'opera, animata dallo studio Sunrise e chiamata in originale City Hunter Shinjuku Private Eyes, vede la luce nelle sale cinematografiche giapponesi nel corso della primavera del 2019. Il film, ambientato ai giorni nostri nel quartiere di Shinjuku, zona simbolo del manga di Hojo, vede ancora come protagonisti Ryo Saeba e Kaori Makimura, per niente invecchiati però rispetto alla serie originale. I due vengono contattati dalla modella e studentessa di medicina Aishindo, che si sente perseguitata e minacciata giorno e notte dallo schifigui che sembrano cercare una misteriosa chiave. Ben presto veniamo a scoprire che questa chiave è legata ad un misterioso progetto a cui stava lavorando il padre di Ai, un uomo che vediamo coinvolto in un sospetto incidente subito ad inizio pellicola. Questo progetto, chiamato Sistema Mebius, è legato alla creazione di armi di ultimissima generazione, comandabili con la forza del pensiero, e questo attirerà ovviamente gli sguardi dei più pericolosi criminali del Giappone, e non solo, che vorrebbero impossessarsene. Con la morte dell'uomo, quindi, questi pericolosi individui cercheranno in tutti i modi di estorcere la chiave ad Ai, però troverà un prezioso alleato, per la sua difesa, nel leggendario sweeper Ryo Saeba, conosciuto nell'ambiente come City Hunter. Le cose si complicheranno di parecchio quando in questi loschi affari si scoprirà essere coinvolto anche i Mikumi, un potentissimo uomo d'affari, proprietario di una multinazionale, e amico di infanzia dell'assistente di Ryo Kaori Makimura. Non c'è poi molto da dire su quest'opera, che seppur con qualche piccola innovazione, è un classicissimo prodotto animato legato al brand di City Hunter, che ricorda in molti O.A.V., special TV e film fatti in precedenza. Qualcuno, nel 99,9% dei casi una bella donna, si trova in difficoltà e si rivolge a Saeba, il quale inevitabilmente si infatuerà della cliente. Inizialmente la donna rifiuterà le avanze del sweeper, salvo poi rendersi conto delle sue qualità nascoste ed avvicinarsi maggiormente a lui. Nel momento di maggiore difficoltà, sembrerà che Ryo possa soccombere, per poi tirar fuori l'asso dalla manica e portare a casa la vittoria e la gloria. Il tutto inframmezzato dai soliti momenti comici, basati per lo più sulle allusioni sessuali di Ryo. Niente cambia anche questa volta nello svolgimento, uguale a tutti gli altri prodotti legati al franchise di City Hunter. Le piccole innovazioni che vediamo riguardano alcuni particolari, come il fatto che Ryo si trovi a combattere contro dei droni o dei nemici meccanizzati, cosa assai più improbabile negli anni 80, oppure il fatto che adesso la bacheca degli annunci, grazie alle quali si possono richiedere i servizi di City Hunter, funzioni tramite QR code. Queste e poche altre novità che certamente non possono far pensare a questo come un anime rivoluzionario, o significativamente importante nell'evoluzione del medium. Appurato questo, il film assolve bene il suo compito comunque, che è quello di far felici gli affezionati fan dei personaggi creati da Ojo, e regalando anche delle piccole chicche, come il cameo delle sorelle protagoniste di Katsai, conosciuto in Italia come Occhi di Gatto, primo grande successo dell'autore. Alcune cose che mi sono piaciute davvero poco sono la sigla iniziale, davvero troppo Tamarra, e che rende molto meglio, a mio avviso, nella versione italiana di Stefano Bersola, e anche la voce di Ryo, sin troppo giovanile sia nella versione giapponese che in quella italiana, in particolare in quest'ultima, dove davvero poco si addice ad un personaggio tutto d'un pezzo, momenti moccori a parte, come Ryo Saeba. In definitiva, un film che sicuramente non deluderà i fan della serie, che potrà intrattenere piacevolmente per un'oretta e mezzo anche i pochissimi che non conoscono City Hunter, ma che molto, molto difficilmente verrà ricordato negli annali dell'animazione nipponica. E anche per questo video è tutto, fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando le notifiche e condividetelo, se volete aiutare il canale, aprite il box informazioni qui sotto, dove ci sono tutte le info utili per farlo, come fare donazioni, come fare i vostri acquisti su Amazon, passando dal mio link affilazione, che per voi non cambierà assolutamente nulla, mentre a me farà arrivare una piccolissima percentuale, e dove seguirmi sui vari social, in particolar modo quelli dove sono più attivo, ovvero Twitch e Instagram. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!